Altro appuntamento settimanale con le interviste di approfondimento sul Vivelto Tevere Sansepolcro come potete già notare questa volta abbiamo due ospiti, parliamo di settore giovanile, parliamo di esordienti in particolare con due dei componenti dello staff tecnico che sono Leonardo Gobbi e Andrea Boncompagna assieme a Diego Fabri e Adenzo Chieserini. Io partirei subito da Leonardo per capire come sta andando quest'annata, non tanto per quello che riguarda i risultati ma soprattutto la crescita dei giocatori di questo gruppo. Per me è il primo anno con gli esordienti, ho fatto un paio d'anni con il collaboratore sui giovanissimi e l'anno scorso ero in Pulcini, ho ripreso una delle due annate che avevo già l'anno scorso è un tipo di calcio diverso rispetto a quello dell'anno scorso, stanno facendo dei progressi obiettivamente sbalorditivi qualche ragazzo tanto noi ci concentriamo solo e esclusivamente sulla crescita, non è che valutiamo partite, risultati ovvio la partita si valuta come metro di giudizio per capire quali sono i progressi che fanno i ragazzi però io a livello personale ma anche penso di parlare per tutto lo staff siamo contentessimi di quello che abbiamo nelle mani di come stanno reagendo i ragazzi e gli stimoli che gli forniamo durante la settimana Andrea lo accennava anche Leonardo, ovviamente è importante perché questa è una categoria in cui si mettono le basi per quello che riguarda il gioco del calcio e questi giovani Sì, questa è diciamo che è una delle categorie più importanti perché è l'ultimo anno dove i ragazzi giocano a 9 e poi passeranno a un campionato più importante e giocheranno il primo campionato a 11 e per loro da lì in poi inizierà il vero calcio quello anche dove se non conta il risultato le dimensioni iniziano ad essere più grandi del campo e inizia il vero calcio diciamo così Quattro tecnici, quanti sono i ragazzi che formano il gruppo? Ma i ragazzi che formano il gruppo sono tanti, sono un'annata dei 2007 che se non sbaglio sono 23 Leo e dei 2006 sono 21 quindi ci viviamo in due gruppi, quattro allenamenti, abbiamo creato un metodo di lavoro che possa rendere bene alla crescita dei ragazzi Da quanto tempo sei al Vivelto Tervere Sansepolcro? Dove nasce questa passione? Tu che sei stato anche un attaccante dal gol facile per la panchina Ma è nato tutto per scherzo l'anno scorso, come sai giocavo alla Pieve quindi mi chiamò Andrea Moreo mi disse vieni a darmi una mano a allenare i ragazzi del 2010 e con lui ho fatto la prima annata Poi la crescita del mio figlio, dovevo allenare lui, ho detto guarda non posso allenare il mio figlio Le ho chiesto di essere sposato in categorie diverse e mi hanno messo insieme a Leonardo, a Diego e Enzo che sono un gruppo valido che sicuramente possono insegnarmi anche a me ad allenare visto che ancora ho pochi anni di esperienza Quanti quali hai fatto nella tua carriera da calciatore? Ma i gol studiati in carriera sono tanti, ora non mi ricordo, sono 167 dai Te lo ricordi? Me lo ricordo, me lo ricordo Sì sono 167, penso di essere stato un buon attaccante nelle nostre categorie dai Ascolta, il fiuto del gol si ha nel DNA oppure si può anche insegnare a questi ragazzi? Il fiuto del gol si ha nel DNA, però lavorando sodo e sulla determinazione nel fare il gol penso che si possa migliorare, tanto Leonardo tu invece da quanti anni è che sei a Viva il Teore Sansepolcro, quanti anni è che alleni e dove nasce questa tua passione? Questo è il quinto anno che sono qui a Sansepolcro, avevo cominciato poco tempo prima a San Giustino ma con i grandi Fu un'esperienza fortunata da un punto di vista perché mi ha aperto nuovi orizzonti, mi ha fatto capire quello che non volevo fare Ho preso un patentino quasi per caso per dire la verità, poi ho cominciato sempre per caso, ho avuto se chiude una porta, se si apre un portone La possibilità di entrare a fare il collaboratore con i giovanissimi era una cosa che mi piaceva, avrei voluto farlo prima o poi in prima persona Quindi mi sono specializzato, abilitato facendo il corso per allenare i ragazzi e penso che stia andando bene perché vedo che il posto bene o male lo salvo E quello non è male, la cosa mi diverte molto quindi diciamo che una serie di casualità fortunate che mi hanno portato a essere qui per il quinto anno Non credo tu possa vantare 167 gol da calciatore però anche tu hai giocato a calcio Facevo il difensore centrale per cui io prima squadra se non erano ho segnato uno su rigore tra l'altro E ho giocato molto poco a livello di prima squadra per motivi di studio perché a 19 anni sono andato a studiare a Firenze Era impossibile allenarsi, un paio d'anni ho campato di rendita, il terzo anno ho cominciato a fare panchina Senza allenamento e non è che mi piacesse molto di essere seduto e ho deciso di smettere L'obiettivo di questa stagione, sempre non parlando dei risultati ma di quello che a fine stagione potrebbe rendervi soddisfatti Noi personalmente puntiamo a una crescita calcistica che però è secondaria rispetto anche a una crescita dei ragazzi Perché poi devono diventare uomini prima che calciatori Cerchiamo molto di battere anche sul concetto di gruppo, di farli socializzare dentro gli spogliatoi Magari delle volte sembra brutto ma stromettiamo proprio i genitori perché quelli sono spazi loro E' giusto che li condividano tra di loro perché è da lì che poi nascono i rapporti che li formeranno anche in futuro Detto questo, dopo sì, c'è l'aspetto tecnico, tattico Noi a livello tattico ancora lavoriamo in maniera molto marginale Arriviamo al 2 contro 2 massimo perché poi chi li metterà in campo un domani potrà farci quello che vuole dei ragazzi Loro è importante che imparino comunque a lavorare in un'ottica C'è un pallone, c'è un compagno, c'è un avversario Diciamo che fino adesso sta andando bene, i ragazzi apprendono Abbiamo la fortuna di avere un paio di gruppi che sono sia di talento che molto intelligenti Perché comunque recepescono in maniera molto veloce quello che noi diciamo La cosa ci soddisfa e ci fa pensare anche che male male non lavoriamo vedendo anche quello che viene fuori Assolutamente sì, siamo in chiusura, Andrea però da te voglio sapere Ovviamente sport, divertimento che è una parola chiave a questa età e ovviamente regole di gruppo Quelle sono fondamentali, noi siamo partiti con delle regole che abbiamo deciso noi E chi sbaglia viene punito con la non convocazione Per noi il gruppo è importante e il gruppo va avanti a qualunque cosa Non guardiamo il risultato, non guardiamo niente noi Noi guardiamo solamente il gruppo e che i ragazzi crescono in maniera educata Allora grazie Andrea Buoncompagni, grazie a Leonardo con cui condivido tra l'altro anche la passione per il biatrono Non lo voglio dire perché siamo in pochi e lo sport lo vediamo a 360 gradi Due o tre in Valtiberina quindi ci siamo conosciuti per la passione per il biatrono Dalle nostre parti è un po' duro portarla a sta cosa Se uno ha voglia di accendere la tv guarda Eurosport Grazie allora anche a Leonardo Gobbi Sì ovviamente settimana prossima per altre interviste di approfondimento Sempre per quello che concerne il Viva Alto Tevere Sansepolcro E un grosso in bocca al lupo a tutti coloro che lavorano soprattutto nel settore giovanile